Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Macolata Madonna dei boschi, prega per noi. Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Carissimi, abbiamo considerato la figura del Salvatore promesso attraverso le profezie e i simili dell'Antico Testamento. L'abbiamo veduto regnare con l'aspettazione e col desiderio in tutte le generazioni che lo precedettero e che tenero sempre a lui rivolto lo sguardo invocando la sua venuta. Nell'Antico Patto possiamo quasi dire che tutto accadeva in relazione al Messia, tutto parlava del Messia, tutto era simbolo del Messia, tutto si effettuava in figura del venturo Messia, come dice San Pan, prima letta dei Correnzi, capitolo decimo. Non era solo il popolo ebreo che viveva in aspettazione del futuro liberatore. L'idea messianica, sebbene in forma più vaga e indeterminata, dominava potente anche su tutti gli altri popoli pagani, barbari e idolatri. L'aspettazione di un uomo straordinario che avrebbe trasformato il mondo ed indirizzato gli uomini per la via della verità e della giustizia era profondamente radicata non solo a Gerusalemme, ma a Roma, nelle Gallie, nell'India, nella Persia, nell'Egitto. E basta consultare i filosofi, i poeti, gli oracoli pagani antichità per persuadersi del fatto. Ma si dirà, e perché Dio vuole tardare a quattromila anni prima di mandare ad effetto la sua promessa? Sempre secondo il computo, bribbino questi quattromila anni. Appunto perché il mondo vi si preparasse, perché il mondo nella lunga attesa sentisse più potente il bisogno di questo liberatore e quindi si disponesse meglio riceverlo ed accoglie la sua dottrina. Caduta la corona del Rosario. E la tanta sospirata pienezza dei tempi finalmente giunse. Il mondo, abbandonato a se stesso, era ormai arrivato al colmo della degradazione e dell'abbruttimento. La notte dell'errore e del vizio incombeva più che mai tenebrosa, opprimente sulla povera umanità. Da ogni parte si levavano voci supplichievi del cielo perché si degnasse di mandare finalmente la benefica rugiada di piovere il giusto, l'aspettato delle nazioni. Ed ecco che dopo quattromila anni i voti in umanità furono paghi, le figure e le profezie furono compiute, le aspirazioni soddisfatte. Gesù Cristo, il Salvatore invocato, venne. Ma in quel modo venne? Ora ascoltiamo il terzo articolo del nostro simbolo. Il credo fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine. Il figlio di Dio, preso manacana nel seno di una vergine, si fece uomo come noi, passibile, mortale, senza cessare per questo di essere Dio. E in tal forma apparve in mezzo agli uomini per compiere il disegno sublime della loro redenzione. Fermiamoci oggi a considerare appunto il mistero grande dell'incarnazione del Verbo e ne osserveremo le circostanze straordinarie e i fatti prodigiosi. E scorgeremo quanto sia vero che in quest'opera il cesse della nostra salvezza Dio concentrò per così dire lo sforzo supremo della sua potenza, della sua sapienza, del suo amore. Le circostanze straordinarie dell'incarnazione ci vengono descritte nel racconto sublime e nella sua semplicità che fa il Vangelo del Grande Avenimento. Giunto il momento destinato da Dio per compiere l'opera dell'umano riscatto, un principe della milizia celeste, l'Arcangelo Gabriele, fu mandato dal Signore nella città di Nazare a una vergine chiamata Maria della tribù di Giuda, discendente dal sangue reale di Davide, ma decaduta con l'andare del tempo in stato di povertà in questa casa di Davide. Questa fra tutte le donne era stata prescelta per essere amare al Divin Salvatore e a tale scopo prevenuta dalle benedizioni del cielo fin dal primo istante dell'essere suo con immacolato concepimento. Benché la si fosse consacrata a Dio fino all'infanzia con voto perpetuo di verginità, tuttavia era sposato un uomo giusto chiamato Giuseppe, e ciò per altissima disposizione divina, affinché questi fosse il custode e protettore della sua verginità, ed insieme il tutore del Divin Figlio che doveva nascere lei, e per dargli anche la paternità legale, quindi davidica. Mentre dunque Maria stava raccolta nel suo ritiro, le apparve l'Arcangelo e pieno di rispetto e di venerazione le indirizzò queste parole. Ave o piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra tutte le donne. Allegrati o Maria, insomma, in greco, eccetera. A questa comparsa improvvisa e al suono di questa voce, l'umile e modesta vergine si turbò, pensando tra sé dove mai potesse tendere un tale saluto. Ma l'Arcangelo prese tosto incoraggiare, dicendo, Non temero, Maria, perché tu hai trovato grazia innanzi a Dio. Ecco che concepirai, partorirai un figlio e lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo, e si regnerà al trono di Davide, suo padre, Ed egli regnerà in eterno sulla casa di Giacobbe e il suo regno, l'avrà mai fine. Una tale proposta non poteva che riuscire inaspettata e di grande sorpresa per una vergine gelosissima della sua purità già donata a Dio. Davanti a quelle parole che riassumivano a quaranta secoli di storie e profezie, Maria, che tutte le conosceva, intese subito che si voleva chiamare l'incomparabile dignità di madre di Dio. Alcuni dico che non conoscevano, sapevano cosa dire, ma oltre che era l'Immacolata Concezione, la piena di tutte le grazie allo Spirito Santo, già questo basta e avanza, era anche una pia ebrea, e pia ebrei, poi era stata anche nel Tempio, figuriamoci, quindi sapevano benissimo, studiavano a memoria tutti quanti i passi della scrittura, quindi non come noi che non sapevano neanche il catechismo, a malapena. Loro sapevano bene tutto quanto riguardavano, ma anche fieri di questo, ci vantavano di essere, nel senso buono, di essere il popolo eletto, quindi conosceva senz'altro tutte le scritte, anche le profezie di Isaia, Gesù Messia, il Redentore, che ha sofferto, tutto sapeva, sia umanamente, ma anche con tutte le grazie dello Spirito Santo, di cui lì era ricolma. Ave Maria, leggo Maria, piena di grazie, piena di tutte le grazie di Dio. Quindi chi dice questo, insomma, è il cosiddetto minimalismo mariamo, no? La tenella proprio basso, questa spada della Madonna, tenella bassa, vabbè. Ma, cioè non va bene, però, beh, pazienza. Ma, e se questa dignità avesse offuscato il suo candore, ecco il dubbio tremendo che in quel momento la salse, quindi rivolta al messaggero celeste. Come mai, disse, questo può avvenire se io non conosco uomo, in senso biblico conoscere uomo è che no, poi unirsi all'uomo, no? L'unione coniugale. Ma l'angelo non tardò a assicurarla e fa l'intendere che il gran mistero non doveva essere opera umana, ma divina, soggiungendo lo Spirito Santo discenderà in te e la virtù dell'Altissimo ti ricoprirà della sua ombra e perciò l'essere santo che nascerà da te sarà chiamato figliuolo di Dio. E voleva dire, tu concepirei senza beggiudizio la tua vergenità, sarai made senza lasciare di essere veggie. Lo Spirito Santo, che è la virtù di Dio, formerà in te miracolosamente il frutto che devi produrre e renderà anche più pure la tua vergenità. E lo confermò narrando il prodigio che Dio aveva già operato in Elisabetta, suo parente, già male da sei mesi in età così inoltrata. Prodigio più che bastante a comprovarle che niente era impossibile presso Dio. Allora Maria, istruita dal grande arcano, senza replicare più oltre, chi no al capo diede il suo consenso con quelle parole. Ecco l'angelo del Signore si è fatto di me secondo la tua parola. Questo lo troviamo nel Vangelo di San Luca, capitolo primo. Ha avuto questa risposta l'Arcangio di Sparve, Maria da serva del Signore ne divenne la madre. In quell'istante medesimo lo Spirito Santo formò nel casto seno di lei un corpo nel suo grammi immacolato. A questo corpo unì un'anima perfettissima e a questo corpo e a quest'anima si estrense in unità di persona il Verbo di Dio, la seconda persona, la Santissima Trinità. E così il gran mistero fu compiuto. Il Verbo di Dio si fece carne. Et verbum caro factum est. Ecco la storia genuina del grande avvenimento a cui si dovevano rannodare tutti i destini dell'umanità, quale ci viene raccontata dalle pagine immortali del Vangelo. Ora vediamo i fatti prodigiosi dell'Incarnazione. Ora saremo un po' desiderosi di avere una conoscenza un po' più dettagliata di questo mistero dell'Incarnazione e di sapere intorno a esso tutto ciò che si deve credere e che si avrò di fatto secondo il disegno sapientissimo di Dio se il Vangelo ci dà un tratto così, però vorremmo un po' saperne di più, insomma, molto più della cognizione di questo mistero dipende nei suoi punti sostanziali e la condizione che tutti dobbiamo avere di Gesù Cristo. L'Incarnazione non è un prodigio soltanto, ma è un intreccio di fatti prodigiosi, soprannaturali, che la nostra mente non può approfondire nella loro essenza, ma che pure deve conoscere ed accettare con piena sommissione ed illimitato o secco. Papa che dice mistero di fede, quali sono i miei principali misteri della nostra fede? Unità, trinità di Dio, Incarnazione, Passione, Morte, Ressurrezione di nostro Gesù Cristo. Quindi l'Incarnazione è il secondo mistero principale della nostra fede. Quindi non tutto comprensivo, ma ciò che non comprensivo è che sia irrazionale. Punto, un mistero. Allora io non tutto posso comprendere, ma do lo seguito di intelligenza, perché questo mistero viene da Dio, che è verità stessa, quindi che non può ingannare. E non lo fa, di fatto. Allora vediamo i principali di questi fatti, fissiamoli bene nella mente, perché sono verità di fede. La prima domanda che si affaccia a nostra mente è questa. Se Dio per mezzo dell'Incarnazione si è fatto uomo, si incarnarono dunque tutte e tre le divine persone? Rispondiamo, no. Si incarnò solamente la seconda, cioè il Figlio. Certo che la natura umana si poteva assumere tanto dal Padre che dallo Spirito Santo, ma fu assunta solamente dal Figlio. Certo che tutte e tre le divine persone concorsero in quest'opera, perché le loro operazioni sono inseparabili l'una dall'altra. La natura divina c'è sempre. Ma chi prese un corpo e un'anima simile a nostra fu soltanto il Figlio. Allora non tocca cercare il perché di questo mistero, trattandosi di cose dipendenti dal libero volere divino. Non occupiamoci nemmeno di riferire le ragioni di convenienza scogitate più o meno sottilmente dai teologi per darne un motivo qualunque. Quando hanno studiato, approfondito in questo, noi ci troviamo di fronte a un fatto davanti al quale dobbiamo chinare la testa senza pretendere di indagare ciò che sarà sempre per noi un mistero. Fatto così perché ha ritenuto di fare così, perché Dio agisce sempre in modo sapientissimo. Quindi lo accettiamo con serenità, senza problema. Una seconda questione che ci si presenta spontanea è questa. Se il Figlio di Dio si fece uomo, si spogliò in quel momento della sua divinità e cessò di essere Dio? Qui il Catechismo ci risponde chiaro. No, il Figlio di Dio facendosi uomo non cessò di essere Dio, ma restando vero Dio cominciò ad essere vero uomo. Ora, in che modo sia avvenuto non possiamo attendere appieno, ma sappiamo che niente è impossibile a Dio. Del resto, una similitudine materiale può darci solo una spiegazione, a meno un'idea del fatto. Sentite. Se un principe si vestisse degli abiti di un prigioniero, ci sarebbe forse di essere figlio del re? No, certo. Ebbene, il Figlio di Dio si vestì del nostro corpo, in modo di dire la nostra similitudine, per poter patire per noi e salvarci, ma io restò sempre quel Dio perfettissimo che era prima, cioè onipotente, eterno, immenso, creatore e signore di tutte le cose. Tutto quello che Gesù ha sofferto era sofferto in quanto uomo, perché Dio non può soffrire, perché insomma perfezione è una sofferenza, un'imperfezione. Quindi la persona è divina, ma c'era anche appunto l'anima umana, con tutte le sue sensibilità, con il corpo, quindi tutto quello che Gesù ha sofferto ha sofferto in quanto uomo per riscattare la natura umana con la sua obbedienza, con la sua morte, con la persona sempre divina. E poi non si dica che l'incarnazione avvelisce e offende l'infinita maestà di Dio. Un monarca che visita un povero infermo sulla paglia del suo tugurio avvelisce forse con questo atto la sua dignità o non la esalta piuttosto e la fa grandeggiare nel concetto nella stima universale. Quando Santa Elisabetta di Ungheria, per esempio, andava a visitare gli infermi, gli ammalati, li portava anche, le caricava sopra, era veramente un angelo per tutti, non è che ha svilito il suo essere regina, ma anzi l'ha sublimato. Infatti era amata da tutti, anche se poi magari quando è caduta la disgrazia, insomma non tutti sono stati riconoscenti, come sempre, purtroppo va l'uomo, diciamo, però tutto era scritto in cielo, una ricompensa che adesso gode per tutta la eternità nella grande gloria di cui adesso è stata, diciamo, premiata. Ancora, ma dunque si dirà, in Gesù Cristo vi erano due nature diverse tra loro? Sì, rispondiamo, in Gesù Cristo vi erano due nature affatto distinte, la natura divina e la natura umana. La divina per cui era Dio come il padre, la umana per cui era uomo come noi. E queste due nature erano in lui intimamente unite, ma senza miscuglie e confusione, ritenendo ciascuna l'essere suo, la natura divina l'essere divino, la natura umana l'essere umano, ritenendo pure ciascuna le sue proprietà e perfezioni. Onde, come si distinguono in lui le due nature, così in lui si distinguono intelletto divino e umano, volontà divina e umana, operazione divina e umana. Per esempio, nel Getsemane si vede meglio, si comprende bene. Padre, ti prego di allontanare da me questo calice, ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Ecco le due volontà, volontà umana e volontà divina, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Quindi, la volontà del figlio e del padre sono discordanti, è in tutt'uno la volontà di Dio, anche se sono distinte le persone, perfettamente. la volontà umana, che sì, siamo totalmente, ecco, ci sia l'obbedienza, fino alla morte di croce, totalmente donata, soggettata al padre. Mio cibo, fa la volontà del padre mio. In tutta la vita, Gesù rispecchia questa obbedienza al padre. Quello che ha fatto, Gesù ci ha insegnato, l'obbedienza perfetta al padre, fino alla morte, era morte di croce, dice San Paolo. Quindi, padre, lontana da me questo calice, ma non si è fatta da me la tua volontà. Con la clausa, questa preghiera dovremmo fare anche noi, perché quando chiediamo le cose a Dio, dobbiamo sempre mettere questa clausa, perché non sappiamo se quello che chiediamo veramente è nostro bene. Cioè, se chiediamo cose spirituali, la conversione, la salvezza dell'anima, la conversione di un proprio caro, chiediamo cose che Dio sicuramente vuole, perché Dio vuole che tutti siamo salvi, quindi siamo certi, questa preghiera è nella volontà di Dio, è lui gradita, e quindi magari nella costanza, nella perseveranza, nella preghiera, posso ottenere questa grazia. Beh, questo vuole senz'altro anche Dio, ma una guarigione di un male fisico, ma un determinato lavoro, una determinata situazione, io non posso sapere se questo che chiedo è veramente il mio vero bene, è quello che devo rimettermi a Dio, padre, ti prego per questo, però tu sai cosa è meglio per me, quindi ecco, si faccia la tua volontà, non è facile farlo, però questa è la preghiera perfetta, la preghiera perfetta è il Padre nostro, ma diciamo come completamento, c'è questo, nel Padre nostro, tutto quello che chiediamo, rimedi i nostri debiti, darci il panno quotidiano, tutto quanto lì, diamo l'odio a Dio, e chiediamo gli aiuti necessari per noi, ma nel Gizze, ecco c'è questa preghiera, possiamo dire, perfetta con la clausa, no, padre, io ti prego per questo, però rimetto tutto, la tua volontà, perché tu sai cos'è il mio vero bene, sono sicuro che tu quello che farai, sarà sempre il mio vero bene, infatti San Paolo racchiude tutto, no, Romani 8, 28, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, tutto, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, allora, io mi devo sforzare di amare Dio, e come lo amo? Semi amato, ho servato i miei comandamenti, dice Gesù, il Maestro, allora, io mi sforzo a servare i comandamenti di Dio, di praticare le opi, la misericordia corporale spirituale, il tutto condito con la preghiera, e una docilità, ecco, allo Spirito Santo, docilità all'obbedienza del Padre, che sicuramente, per il mio bene maggiore, in Paradiso, che potrebbe passare attraverso delle croci, ed anche delle grandi sofferenze, ma queste mi purificano, mi rendono come l'oro nel crogiolo, per rendere più bello per l'eternità, allora vale di più l'eternità, ogni pochi anni che trascorriamo sulla terra, vale di più l'eternità, ecco la sapienza, ecco la saggezza, la perla preziosa, che dobbiamo cercare, e custodire, vendere tutto, per prendere questa perla preziosa, la perla evangelica, che è d'immenso valore, sono di lungo, però insomma, ecco, era anche bene dire questo, no? Continuiamo, come è possibile che di un'attore così diverse, così distanti l'una dall'altra, ci siano unite insieme, in modo da formare una sola persona, un solo Cristo, c'è natura divina, natura umana, ecco, com'è possibile che ci sia una sola persona, in queste due nature? Se domandate come ciò, può essere, non possiamo rispondere, diciamo, non lo sappiamo, perché appunto è un mistero, come siano unite, non possiamo sapere, no? Possiamo però, possiamo farci una qualche idea, solo che osserviamo, ecco, quanto accade noi stessi. Ora, di quante sostanze noi siamo composti, di due, anima e corpo, ma queste due sostanze così diverse, così distanti, sostanza materiale, corpo, sostanza spirituale, l'anima, si trovano in noi congiunti, in modo da formare, non già due uomini, due persone, ma un solo uomo, una sola persona, questo lo sperimentiamo, soggetto psichico, nostro io, ecco, la persona, l'anima, che informa tutto quanto il corpo, infatti, quando c'è la morte, la separazione dell'anima del corpo, e il corpo va in decomposizione, diventa cadavere, perché è l'anima che teneva tutto il corpo, unito, l'informale, infatti, quando l'anima si stacca, si separa, il corpo pian piano, pian piano va in potrefazione, insomma, si disgrega, perché il principio vivificante e unitivo è l'anima, si direbbe in metafisica, forma sostanziale della materia, è appunto la forma, che dà, diciamo, alla materia, conferisce alla materia, la sostanza, la forma sostanziale, diciamo, della materia, diciamo, l'anima è la forma sostanziale del corpo, sono termini un po', un po' difficili, diciamo, in metafisica, però noi questo lo sperimentiamo, soggetto psichico, l'io, ecco, la persona, quindi l'anima, la nostra parte spirituale, no? Mentre tutto il resto, diciamo, è la parte, ecco, materiale. In simile modo, dice il simbolo di Atanasio, sebbene l'umanità, le divinità, siano due naturi infinitamente istanti tra loro, unite insieme o staticamente in Gesù Cristo, formano un solo oggetto, un solo individuo, una sola persona, un solo Cristo. Questo è ciò che dice la nostra fede, questo noi crediamo. Vedete come, dunque, come sto fatto, non è realmente impossibile, cioè che nel figlio di Dio incarnato, quantunque esistano due nature distinte, non vi sono affatto due persone, ma una persona sola, che è la divina, perché appunto il soggetto è operante. Di qui appunto ne viene che giustamente si attribuiscono a Gesù Cristo dei caratteri, delle qualità, affatto contraddittorie. Sembra, dice per esempio, che Egli è eterno e deve principio, che fu unipotente e debole, passibile e impassibile, immortale e mortale, uguale al Padre, in minore del Padre, sembrerebbero in contraddizione tra di loro. Di qui l'ammirabile cosiddetta comunicatio idiomatum, la comunicazione degli idiomi, per cui Gesù Cristo, come uomo, è chiamato con diritto figlio di Dio, e come Dio è chiamato a ragione figlio dell'uomo. Si dice quindi che Dio è nato da una vergine, che ha patito ed è morto, sebbene sia nato ed abbia patito soltanto nella natura umana e non nella divina. Di qui il medesimo culto di Latria, per cui si adora in Lui tanto l'una che l'altra natura. E di questa ammirabile unione della divinità con l'umanità nella persona adorabile di Cristo, ce ne fa spegnere testimonianza il Vangelo, nel suo descriveci gli atti della sua vita. Essi sono quasi un perpetuo contrasto, diremmo meglio, inammirabile fusione di umano e di divino. Per esempio, Gesù nasce in una stalla, debole e povero come l'ultimo dei neonati, anzi come il più povero dei poveri. Ecco l'asta dell'uomo. Ma gli angeli cantano sulla sua culla, nuovi asti lo annunziano, l'universo si commuove tutto nel conoscerlo, poi oro, incenso e mire sono deposti ai suoi piedi dai re magi. Ecco la comparsa di Dio. Gesù cresce in età e sapienza e in lavoro, nell'oscurità come gli altri di Nazareth. Ecco l'educazione progressiva dell'uomo. Ma si reca poi a celebrare la Pasqua in Gerusalemme, a dodici anni, e si trattiene disputando con i dottori nel Tempio, riempiendo di stupore con la sapienza delle sue risposte. Ecco la scienza naturale di Dio. Egli viene battezzato come gli altri peccatori nel fiume Giordano, ma il cielo si apre sopra di lui e rende testimonianza della sua affiliazione divina. Egli subisce nel deserto la tentazione nel par degli altri uomini, ma con tre risposte mette in fuga il tentatore e quindi si fa servire dal ministero degli angeli come proprio della maestà divina. Egli è povero, soffre la fame e la sete, ma al tempo stesso sfama la moltitudine con cinque panni e pochi pesci. È un miracolo, no? Dei panni e dei pesci. Non ha di proprio neppure una pietra dove posare il capo, ma comanda, si fa subito obbedire dagli elementi. Va pellegrinando a piedi, ma quando vuole l'acqua stessa si fa solida sotto i suoi passi quando la barca è interpesta che ha mirato sulle acque per andare a aiutare gli apostoli. Si lascia a sfinire dalla fatica, tuttavia guarisce i malati. Piange sulla morte l'amico Lazzaro sull'ingratitudine di Gerusalemme e lì solo sa asciugare le lacrime e dei sofferenzi e poi fa addirittura risuscitare Lazzaro. Osservatelo poi nella storia della sua passione è morte e il contrasto si fa ancora più vivo. Egli agonizza nell'orto è tradito dagli amici che non sanno vincere il sonno mentre gli sta per morire. Viene tratto di tribunale in tribunale dove interrogato e giudicato come un malfattore è confitto in una croce e poi deposto a cadavere in una tomba. Ma ascoltatelo invece quando profetizza l'ora prossima della potenza delle tenebre e la venuta del traditore quando levando alta la fronte con una parola sola atterra i suoi nemici osservatelo quando guarisce l'orecchio di Malco che San Pietro ha tagliato con la spada quando minaccia Caifa riempie di rimossi l'anima nera di Giuda miratelo quando la sua morte la terra si scuote e il sole nega la sua luce quando un terzo giorno risorge dal sepolcro per virtù propria il potere di dare la vita il potere di riprenderla quando cospetto degli apostoli ascende al cielo impassibile e glorioso dinanzi a tanti testimoni ocolari mistero con l'ascensione il fatto dell'ascensione al cielo allora domanda chi può essere un individuo tale egli un uomo sì perché lo vediamo immerso in dolori è un dio sì pure perché ci si mostra sempre con gli attributi della divinità infinito nella sapienza nel potere nella gloria dunque chi è in conclusione Gesù Cristo la risposta si impone da sé egli è uomo egli è Dio egli è l'uomo Dio ecco dunque il grande mistero dell'incarnazione ecco come questo mistero con l'intreccio amirabile dei suoi prodigi ci rivela la potenza la sapienza e la bontà di Dio ecco come esso presentandoci dinanzi la sua realtà divina ed umana l'adorabile figura del Redentore ci sforza a piegare il ginocchio davanti a lui e ripete col cuore commosso le grandi parole dell'evangelista veramente il verbo di Dio si è fatto a cane ed abitato fra noi verbo un caro factum est et habita aviti in nomis conclusione qui nel chiudere questa istruzione non possiamo far meno di ricordare ancora una volta beneficio immenso che apprezzo i tanti sacrifici e omigliazioni che Gesù Cristo ci ha fatto egli si è incarnato si è fatto simile a noi si è abbassato fino alla nostra miseria come abbiamo cenato prima per sollevarci dal fondo della nostra abiezione rendici nuovamente degni di essere figli di Dio ed eredi del paradiso pensiamo dunque spesso alla sua grande opera di amore e siamo dei riconoscenti pensiamo che eravamo ripiedi di umiliazione e Gesù Cristo si è fatto nostro sollievo eravamo curvi sotto il peso della maledizione e Gesù si è addossato alla nostra maledizione eravamo condannati al pianto senza il conforto di una speranza Gesù ci ha dischiuso le porte della vita eterna si racconta la vita del profeta Eliseo che una volta una povera donna di Sunam desolata per la morte suo unico figlio si presentò a lui pregandolo a calde lacrime che si degnasse di ritornarle vivo con miracolo l'unico sostegno della vita commosso il profeta le lacrime di quella madre mandò il suo servo affinché ponesse sul cadavere il suo bastone ma questo a nulla Giovò allora si mosse gli stessi in persona e chiusosi nella camera funebre e si stese sul giovanotto morto si impiccoli si contrasti fino a prendere la forma di lui di lì a qualche istante la vita era per così dire passata dal corpo di Eliseo in quella del defunto che cominciò a vivere e ritornò fra le braccia della madre sua ecco un'immagine di quanto fece figlio di Dio a nostro vantaggio egli per così dire contraste la sua immensità e si impicciolì fino a prendere la forma umana per donarci la sua dottrina i suoi lumi i suoi meriti per avivarci col fuoco del suo amore e risuscitarci la vita soprannaturale della grazia potremmo dimenticare un tanto beneficio e disconoscerlo sarebbe il colmo dell'ingratitudine e dell'infedeltà quindi ecco dobbiamo cercare di ricordarci di tutto quanto Gesù ha fatto per noi come se per esempio noi siamo condannati l'ergastro per una cosa grave che abbiamo fatto e quindi tutta la vita devo passare in prigione arriva uno e dice senti un po' io non ho nessuno eccetera lui c'è la famiglia tutto quanto vado io in prigione al posto suo prendo io il suo posto mirabile scambio e ci chiede un'ora la settimana e quindi andare a visitarlo la domenica un'ora per come stai stai bene eccetera eccetera se noi non andassimo a visitarlo in quell'ora lì saremmo dei sommi ingrati perché se io sono fuori posso stare a quello che è mia famiglia a lavorare tutto quello che posso fare è grazie a lui che sta in prigione al posto mio mentre lui essere io lì tutta la vita con l'ergastro quindi se io mancassi a quell'ora lì in cui lui mi aspetta per vedere come sto per vedermi felice mi ha detto io avrei mi sono sacrificato per te perché l'ho fatto col cuore perché tu hai famiglia figli è bene che tu vai a fai tutti preoccupare quale ingratitudine ecco la santa messa la domenica no cioè noi Gesù ha pagato questo per noi ci chiede un'ora su 168 settimanali per sé tutte le 24 ore della domenica sono consacrate a Dio riposare non fare lavori servivi se non necessario per massimo due o tre ore eccetera a meno che non sia di utilità comune e però ecco il cuore è la santa messa quindi io faccio fatica a dare anche un'ora alla settimana al Signore quando sono riscattato da Lui che ha pagato al posto mio mi è riaperto al porto del paradiso quindi ecco vedete perché noi non le meditiamo tanto queste cose no non farei non vado sulla messa domenica vado messa anche tutti i giorni per poterlo ringraziare riceverlo ed essere da Lui deificato per essere sempre più simile e diventare veramente cristiano quindi ecco cerchiamo di riflettere in questo concludiamo con sempre qualche similitudine fatto e commento il fuggiasco per fermare un fuggiasco bisogna correre appresso e correre tanto da arrivare a prendere materialmente nel pagno per un braccio ora vedete quale amore fu quello di Dio il genere umano dopo il peccato come Caino fuggiva da Dio ne voleva voltarsi a Lui ma Dio di corse appresso lo raggiunse con l'incarnazione questo San Giovanni Crisosto bello il solo figlio si incarnò di Sant'Agostino che ci parla vedi quando tu parli la tua idea il tuo pensiero quasi si incarna nel suono o nel segno e restando dentro di te essi poi fuori e si comunica a chi ascolta come sto facendo io con voi così il verbo del padre restando col padre e con lo spirito santo solo uscì per la incarnazione e si comunicò agli uomini Sant'Agostino con la sua genialità la providenza di Dio nell'incarnazione una mano barbara e profana ha sformato in parte il Mosè di Michelangelo e guastato a trasfigurazione di Raffaello gli artisti amano i loro lavori come un padre ama i suoi figli e io credo che se Michelangelo e Raffaello rivivessero rifarebbero quei lavori ne si darebbero pace finché non avessero ridato la primitiva bellezza a cui miracoli dell'orogenio orbene l'uomo era il capolavoro del creatore e compendiava in sé tutte le bellezze dell'universo la mano del nemico guastò fin dal principio l'opera grande del Signore e poteva il verbo che la fece restare indifferente sarebbe un dar la vinta al demonio che così si sarebbe vantato di questo conveniva dunque che la mente la quale ideò l'uomo lo rifacesse sull'antico modello affinché pieno fosse il trionfo dell'artefice divino pieno lo scorno del malvagio che l'aveva bruttamente svisato ed ecco Dio che viene a rifare l'uomo e a ridipingere in lui le primitive fattezze non è questo un atto mirale della providenza del Signore? L'amore di Dio nell'incarnazione Alessandro il Grande Alessandro Magno dopo che vinse Dario sin padroni della Persia per guadagnarsi l'affetto di quei popoli si fece vedere vestito la maniera dei persiani e ciò bastò per eccitare in essi un grande entusiasmo così appunto pare abbia fatto il nostro Dio per guadagnarci l'affetto degli uomini si vestì la foggia umana cioè assunse un corpo e un'anima come abbiamo noi e così vuole far vedere fin dove arrivava il suo amore per il genere umano e si noti e si noti che lo strategemmo usato da Alessandro consisteva in pure vesti le quali potrebbero essere deposte un momento dopo invece il figlio di Dio così intimamente assunse l'umana natura che restò in eterno inseparabile la sua natura divina infatti in cielo e col corpo è glorificato la natura umana è stata assunta fino al cielo glorificato per l'assurazione quindi Gesù è in cielo col corpo glorificato quindi ecco la natura ha unito inseparabilmente la natura umana con quella divina in Cristo quindi ecco che siamo stati elevati alla natura divina questo non dobbiamo dimenticarlo per sé la verga d'oro e di ferro questo è un bel esempio a proposito dell'unione delle due divine scusate a proposito dell'unione delle due nature la divina e la umana in Gesù Cristo un bravo giovane trovandosi un giorno le prese con un armeno scismatico se per ridurre a silenzio con un paragone semplicissimo l'armeno sosteneva non esservi in Cristo che una sola natura è vero diceva che Gesù Cristo è Dio ed uomo ad un tempo ma la natura divina ed umana sono talmente unite che forma natura sola prendete due pezzi di ferro uno piccolo e uno grosso fondeteli insieme eccoli formare un pezzo solo in cui non vi riesce a distinguere il metallo faceva parte del pezzo piccolo e il metallo faceva parte del pezzo grosso questa era la ringa diciamo dell'armena il giovane rispose subito verissimo ma invece del piccolo pezzo di ferro prendete una verga d'oro e fondetela col ferro il pezzo ne risulterà sarà tutto oro o tutto ferro in quella stessa verga vi sarà oro e ferro così il nostro Signore la natura divina che è rappresentata la verga d'oro è unita alla natura umana costituiscono una sola e medesima persona ma in essa vi sono due nature con la sua natura umana Gesù Cristo ha sofferto ed è morto con la natura divina ha dato un prezzo infinito ai suoi sacrifici e alla sua morte erettico messo al muro dalla semplice argomentazione non seppe più rispondere San Vincenzo De Paoli e il condannato la vita di questo grande apostolo della carità a cui l'umanità di abitrice di tante istituzioni previdenziali vantaggio di poveri di sofferenti si legge un episodio covumentissimo che dimostra fino a quale altezza di eroismo saspirsi la carità animata al soffrio della fede cosa hanno fatto i santi ecco veramente incredibili ecco perché bene leggere la vita dei santi sentite un giorno il santo percorrendo le prigioni di Marsiglia seppe che era stato di fresco imprigionato e condannato a morte un terribile malfattore a cui nessuno osava accostarsi voglio vedarlo disse egli a custode dove l'avete messo? in quella gabbia di ferro ma non ci andate padre espose e custode vi esporreste una tempesta di insulti Vincenzo non ascoltò si recò la gabbia ne ha persa la sbarra ed entrò solo come vide un prete venire innanzi la bella vumana sbarò due occhi di brage e mugolò chi è questo cane che viene qua dentro? Vincenzo chinò il capo si pose ginocchioni davanti a lui ascoltando quanti insulti sapeva scagliare quella bocca d'inferno visto alla fine che non chietava punto salzò ad un tratto in piedi gettandosi al coro di lui ah figli oro disse se tu sapessi il bene che ti voglio l'uomo feroce si sforzò sulle prime di svincolarsi alle braccia del santo ma questo lo tenevano più stretto che mai e dalla fine come atterrato da quell'impido di carità non serve più resistere ed abbandonò sull'omero di lui il suo volto tremante in quel momento i suoi occhi torvi ed arcini se non mi dirano di pianto e ah padre esclamò con gemito soffocato voi qui a me allontanatevi che io sono un uomo disperato a giorni verrò condotto al patibolo lascio una moglie disonorata quattro figli senza pane che abbia detto allora Vincenzo che abbia fatto lo sa soltanto in Dio ma su un imbrunire si vide un uomo tutto ravvolto nel suo mantello di missionario uscire in fretta dalle prigioni la gente lo salutava passando tenendolo per Vincenzo ma gli studiava il passo e si affrettava ad andarsene venuta la sera non si vide più comparire a casa Vincenzo al domani ugualmente si sparsi quindi un attimo la voce della sua scomparsa la gente cominciò ad almanacare gli amici conoscenti si posero subito sulle sue tracce per qualche tempo lo cercarono utilmente ma infine entrati nella galera lo trovarono nel covile dell'assassino di recente condannato che coperto dei suoi cedici attendeva la sua morte e gli aveva indotto il disgraziato coprisse la sua veste ed evadere rimanendo in sua vece pronto ad andare per lui alla morte che vi pare di un atto così eroico di carità incredibile no? eppure assai più infinitamente ha fatto il figlio di Dio per noi col farsi uomo quindi ecco dovremo ringraziare da adesso per tutta l'eternità allora chiediamo anche noi la grazia di questa carità che forma il nostro cuore con intelligenza ecco di la sapienza di poter conoscere le cose di Dio che noi cerchiamo anche qui semplicemente ecco di illustrare per aumentare il nostro amore la nostra riconoscenza in lui anche per rinnovare la nostra dottrina che magari è un po' languente ecco purtroppo conosciamo poco il catechismo perché semplicemente ripassiamo tutto quanto il catechismo tutte le base della nostra fede per mettere diciamo rinnovare la nostra fede rievangelizzare ecco il popolo cristiano che insomma purtroppo ha un po' perso la fede un po' diluito un po' inquinate c'è parecchia confusione diciamo c'è anche il diavolo che semina la sua zizzania allora cerchiamo di riportare la dottrina cattolica sana sacrosanta bella limpida affinché possa infiamare il nostro cuore ecco di riconoscenza al Signore per vivere da figli suoi meglio che possiamo per poi goderlo un giorno eternamente questo è il fine dell'uomo c'è già catechismo conoscere amare servire Dio in questa vita per godare eternamente noi cerchiamo adesso di conoscerlo per amarlo di più servirlo meglio per poi meritare il premio del paradiso e così sia tutto questo lo affidiamo al cuore immacolato di Maria gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio e sempre nei secoli dei secoli e per l'inizione del cuore immacolato di Maria benedica Dio Onipotente in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Ave Maria